Pacchetto numero 2 Ciao, siete alla ricerca del regalo perfetto? Eccoci, siamo Margherita e Giulia e abbiamo un sogno nel pacchetto per tutte le bambine che amano il mondo Disney Frozen e le principesse Disney come noi Ciao! E' arrivato un messaggio La mia nipotina Marta è sempre in giro alla ricerca di avventure come Ola Mi chiedo, quale dono la renderebbe ancora più felice? Pacco pacco del mio Natale! Ecco il regalo perfetto per divertirsi a scorrazzare! La bici Denver Disney Frozen è colorata e super accessoriata e ha anche un cestino per portare giochi più belli Con questo regalo Marta potrà correre veloce come la sua immaginazione e raggiungere luoghi magici pieni di caldi e bracci, tutti per lei Ecco qui i desideri e anche spesso in arrivo Ci vediamo al prossimo sogno del pacchetto, ciao! Pacchetto numero 3 Mia figlia Emma condivide il sogno della principessa Tiana aprire un ristorante tutto suo Cosa posso regalarle per farlo avverare? Pacco pacco del mio Natale! Ecco il regalo perfetto per imparare a cucinare! La cucina Simba Smobby delle principesse Disney è fornita di tutto l'indispensabile per divertirsi ai fornelli e a giocare a preparare piatti deliziosi perché ha un forno per preparare cose buonissime dei ripiani per far spazio alla fantasia e un lavello per lavare piatti e posate Con questo dono Emma potrà seguire l'esempio della principessa Tiana e darsi da fare nel realizzare il suo sogno Ecco qui Desiderio Express in arrivo! Ci vediamo al prossimo sogno nel pacchetto! Ciao! Pacchetto numero 4 Mia figlia Giorgia è una grande fan delle canzoni di Elsa Ti viene in mente un regalo adatto a lei? Pacco pacco del mio Natale! Ecco un regalo perfetto per giocare come Elsa a cantare! Elsa Magica Cantante Asbro è una bambola piena di sorprese Basta toccarle il bustino e lei inizierà a cantare all'alba sorgerò e il vestito inizierà ad illuminarsi Con questo regalo Giorgia passerà momenti indimenticabili con la sua bambola di Elsa e potrà ascoltare la sua voce ogni volta che vorrà Ecco qui Desiderio Express in arrivo! Ci vediamo al prossimo sogno nel pacchetto! Ciao! Pacchetto numero 5 Le principesse Disney mi hanno insegnato a sognare in grande Vorrei un regalo che permettesse anche a mia figlia Esther di seguire il loro esempio Pacco pacco del mio Natale! Ecco il regalo perfetto per farsi ispirare! Con i DVD delle principesse Disney le loro fantastiche storie sono sempre a portata di mano Ci sono veramente tutte! Biancaneve La bella addormentata nel bosco Rapunzel I DVD e Blu-ray delle principesse Disney ti fanno vincere un buono per il film Disney Pixar Coco al cinema dal 28 dicembre! Con questo regalo Esther potrà immergersi nel mondo delle principesse Disney e puntare sempre più in alto con i suoi sogni Ecco qui! Desiderio X Express in arrivo! Ci vediamo al prossimo sogno nel pacchetto! Ciao! Ciao!